Hanno abusato ripetutamente del figlio e lo hanno venduto nel deep web ad altri pedofili per più di due anni. Il Tribunale di Friburgo ha così condannato la madre 48enne Berrin Taha a 12 anni e mezzo di prigione e il nuovo marito di lei, Christian Lais, che il bambino chiamava papà, a 12 anni con carcerazione preventiva. Il caso ha scioccato la Germania e ha fatto crescere i dubbi sul sistema dei servizi sociali tedeschi. Al patrigno, 39 anni, infatti, era stato inspiegabilmente permesso di convivere con madre e figlio nonostante una condanna per abuso su minori e un ordine di un tribunale di divieto di avvicinamento a minori. Secondo la Corte, il bambino, che adesso ha 10 anni, ha subito abusi sessuali ed è stato messo in vendita nel cosiddetto dark web tra il maggio del 2015 e l'agosto del 2017. I due coniugi sono stati condannati per stupro, aggressione sessuale aggravata, induzione alla prostituzione e distribuzione di materiale pedopornografico. La coppia dovrà anche pagare 42.500 euro di danni al bambino o a un'altra vittima o a una bambina. La madre ha già annunciato che non farà appello. Katia Rawat, rappresentante delle parti civili. La madre è soddisfatta con la sentenza e con la condanna, ma come già prima dell'inizio del processo, persistono fraintendimenti. Avrei voluto delle spiegazioni da parte della madre o almeno qualche tentativo. Lo stesso tribunale ha condannato lunedì un pedofilo spagnolo, Javier González Díaz, a 10 anni di carcere per aver abusato ripetutamente del bambino dopo aver pagato i genitori. Il pedofilo, 33 anni, dovrà inoltre pagare 18.000 euro alla giovane vittima.